Ciao ragazzi, benvenuti tornati a Expanded Impulse Channel oggi iniziamo una nuova serie di video che potete vedere magari 30 secondi o 1 minuto prima che ci sia il vlog la descrizione del video la descrizione del video in questo video Cesco, mio figlio si reagisce la prima volta che ha fatto il video il video 2 anni fa perché il 15 di maio è il giorno di figlio quindi 2 anni fa dopo il video abbiamo fatto il video abbiamo fatto il video e abbiamo fatto il video e abbiamo fatto il video quindi guardate questo video quindi è molto divertente quindi guardate questo video grazie molto wow Ciccio quindi chi è là? wow qui c'è Ciccio quindi non ho pubblicato questo video prima quindi è il primo batto di Francesco quindi ora ma Ciccio cosa ti senti? guardando te stesso quando ero figlio sei 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 perché questo è 2 anni fa è molto divertente quindi questo è Ciccio 2 anni fa è Ciccio ora vediamo la nostra faccia la sua faccia è piccola quindi ora Ciccio ha quanti anni fa? 2 anni fa un anno fa è la prima volta una settimana è la prima volta video splash reazione quindi c'è una nuova serie nel canale c'è un'intro e anche un'outro francesco 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 anche io sono molto orgoglioso di vedere questo video dopo 2 anni che mio figlio è molto movimento e perché ho trovato nel canale che ho scoperto che questo è stato un uomo un po' un po' come si senti Francesco per vedere te stesso dopo 2 anni? c'è una nuova serie del canale scrivi me nei commenti se non mi piace questa in modo fare la video so maybe we react to our old video the new chair say hi to all the paparazzi you remember when he was in the delia we do so this is after two years because we was a little protective and now it's just celebrating because now there is bird day almost what is the day in May third birthday the third ah the second bird day is the first bad reaction so you like to watch yourself Francesco very enjoying this he's a little shy front of the camera snort because he's also there this is the first vlog that you do the first vlog that you do in your life Francesco say ciao 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 subscribe so this is the new outro maybe you can see a playlist here video review here subscribe here click the bell here still I understand how to do this also comment with it we need that you comment if you like our video so thank you so much see you next video you